Attenzione Repice, il Milan è in vantaggio, al decimo minuto autogol di Clavan dopo pallo interno colpito da Leao, Milan 1, Cagliari 0, autogol di Clavan, cannonata di Zlatan Ibrahimovic, 2 a 0 per il Milan al decimo minuto della ripresa, Ibra in doppia cifra, 10 per lui in campionato, bellissimo il suo gol, di collo pieno, pallone sotto la traversa, Milan 2, Cagliari 0, nuovamente Un attimo Bisantis perché il Milan è dilagante, Castiglieco per il 3 a 0 al dodicesimo, Milan 3, Cagliari 0 a te